Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Come ogni giovedì oggi è il giorno del souvenir digitale, della scoperta di un'applicazione, di una tecnologia, di un'invenzione, di un contenuto che possa cambiare in meglio la nostra vita o il nostro lavoro nel mondo digitale. E oggi vi presento una app, anzi un'iniziativa promozionale portata avanti da un grande brand del fitness all'interno di un'applicazione che utilizzo giornalmente per allenarmi. Prima di entrare nel vivo però voglio ricordarvi che se vi appassionano i souvenir digitali, se siete dei gadget maniaci come lo sono io, bene, potete recuperare anche quelli del passato, semplicemente andando su strategiadigitale.info troverete una bella playlist con tutti i souvenir digitali del passato con relativi link per attivare direttamente la app o il contenuto di volta in volta segnalato. Ora ragazzi non poniamo più tempo in mezzo, è arrivato il momento di scoprire un souvenir digitale che potrà farci stare meglio in salute, soprattutto se amiamo la corsa o la vita dal movimento all'aria aperta e quindi buttiamoci nello scoprire l'iniziativa promozionale di ASICS su RunKeeper. Allora ragazzi, tutti i giorni, o meglio tutte le mattine, qui ce la faccio a tirarmi giù da letto a un orario decente che per me è intorno alle 5 e mezzo, massimo 6, vado a fare una bella passeggiata, una bella corsetta nel parco qui in zona, è un palco molto bello sulla riva dell'Aniene, del fiume Aniene che scorre qui nella zona di Roma Montesacro. Benissimo, qualche tempo fa ho aperto, tutti i giorni apro la stessa applicazione, utilizzo RunKeeper come track per la mia attività fisica e qualche tempo fa ho aperto l'applicazione e ho trovato una sfida. Che cos'è una sfida? Le sfide sono una iniziativa di RunKeeper nata per, da una parte, motivare chi utilizza questa applicazione a utilizzarla di più e quindi a fare più movimento fisico. Quindi inizialmente le sfide erano lanciate dallo stesso RunKeeper che ti diceva per esempio questa settimana corri almeno due volte per 20 minuti, non lo so, e quando correvi almeno 20 minuti per due volte nella settimana ti dava un piccolo badge, quindi utilizzando il meccanismo della gamification portava a aumentare la tua motivazione, non ti trovavi semplicemente a correre tutti i giorni o a correre due o tre volte a settimana ma ad affrontare una vera e propria sfida con la soddisfazione derivante dall'aver superato i tuoi stessi limiti, dall'essere uscito fuori della tua comfort zone o semplicemente dall'essere riuscito a raggiungere un obiettivo definito. Via via, qua sto parlando dell'inizio di RunKeeper, via via che l'applicazione e il servizio si sono evoluti, nelle sfide sono entrati i brand. Infatti le sfide, quale miglior premio possono offrire se non un regalo, che in questo caso molto spesso è un codice promozionale. Quindi corri una 5 km in questo mese e tu e gli altri che hanno corso 5 km in questo mese potete partecipare all'estrazione di una cuffia per fare running, oppure un paio di scarpe, oppure tutti quanti avrete lo sconto del 20% sull'abbigliamento sportivo del marchio tal dei tali. E vabbè, fino a qua lascia un po' il tempo che trova perché personalmente trovo più interessante l'aspetto della motivazione legato al raggiungere un obiettivo che io stesso mi sono posto rispetto al contentino del coupon sconto o della possibilità di vincere chissà quale oggetto che non mi serve. Non è che volevo prima le cuffie, no. Mi stai proponendo come le raccolte punti quelle della benzina, dei distributori di benzina. Ti danno dei premi che sì, sono carini, ma non è qualcosa che volevo. Invece, in questo caso che vi sto raccontando, la sfida che mi è stata proposta, brandizzata da ASICS, aveva un altro spirito, tutto un altro spirito. Cosa prevede, cosa offre questa sfida? È una sfida che puoi tu stesso cogliere cliccando sul link che metto nelle note dell'episodio. Quindi il souvenir digitale di oggi è proprio questa sfida creata da ASICS per girare sul Rank Keeper. Chiunque ha Rank Keeper, la versione gratuita, può cliccare sul link, scaricare l'applicazione e attivare questa sfida associata al tuo account. La sfida aveva l'obiettivo, si chiama Pace Academy, cioè è un training per aumentare il tuo ritmo di corsa. Quindi aveva l'obiettivo di farti correre più veloce. Come perseguiva, anzi come persegue questo obiettivo con vari allenamenti diversi. Ora apro Rank Keeper così ti so dire esattamente quanti sono. Sono sei allenamenti diversi. Aumenti di velocità, fartlek breve, avanzamento, ripetizioni da 400 metri, scaletta fartlek e 5 chilometri finale. Questo è l'obiettivo finale. La cosa carina è che al momento in cui hai attivato l'abbonamento o attiverai l'iscrizione gratuita a questa sfida, a questa ASIC Space Academy, potrai specificare, o meglio sarà Rank Keeper, a suggerirtelo in base alle tue attività sportive pregresse, potrai suggerire il tuo ritmo di corsa medio. Quindi lui guarderà tutte le attività di corsa che hai fatto fino a quel momento, o se non ne hai mai fatte sarai tu stesso a scrivere il ritmo, e ti suggerirà un ritmo medio delle tue attività. Cioè tu fai, che ne so, 32 a chilometro ci metti x minuti e ti dà appunto il ritmo pesato su tutte le tue attività precedenti. Alla fine della sfida ti darà il tuo nuovo ritmo, cioè il ritmo che sei riuscito a ottenere dopo questo allenamento misurato su una corsa da 5 chilometri. Ora, perché secondo me questa iniziativa promozionale è sicuramente da segnalare e da condividere, è molto molto interessante. Beh, prima di tutto perché ti offre vari tipi di allenamenti, quindi ti permette di conoscere cose nuove. Personalmente ho scoperto il Fartlek, il Fartlek questo sconosciuto. Fartlek, come ti suggerirà anche la vocina della signorina di Rank Keeper quando avvierai il tuo primo allenamento, o meglio il tuo primo allenamento Fartlek, significa gioco di velocità ed è un allenamento inventato da un atleta che inizialmente era ancorato a degli oggetti, aveva delle ancore visive lungo la corsa. Quindi questo atleta correva nel bosco, a un certo punto individuava a una buona distanza un albero particolare, un tronco caduto, un ruscello, una pietra e dal punto in cui stava fino alla pietra cambiava il proprio ritmo di corsa. Quando arrivava alla pietra rallentava e ritornava al livello, diciamo, basale, al livello di corsa che aveva prima di porsi questo obiettivo e al tempo stesso cercava un nuovo riferimento visivo. Quindi mentre nella corsa al ritmo inferiore aveva la possibilità di avere un minimo di ripresa, fissando un nuovo obiettivo visivo poteva addirittura aumentare ulteriormente l'intensità o fare la corsa della stessa intensità che aveva utilizzato per raggiungere la pietra o l'obiettivo precedente. Questo modo di correre è molto divertente. Io personalmente amo tantissimo l'allenamento all'interno della sfida da 29 minuti del Fartlek, quel Fartlek breve, perché uno mi permette di incastrare idealmente in 30 minuti di attività e quindi in tempo per tornare a casa, farmi la doccia, preparare le colazioni, vestire le figlie e portarle a scuola, mi permette di fare un allenamento giornaliero leggero, non troppo impegnativo e divertente. E due appunto per l'aspetto del divertente perché variando continuamente la velocità della corsa non ti affatichi e ti diverti. sei portato ad ascoltare e a focalizzarti sulle indicazioni che la voce della gentile signorina di Rankyper ti suggerisce. Quindi senti un suono, clink, ora corri un minuto a 6 minuti per chilometro e ti dà le indicazioni di volta in volta su come aumentare o diminuire la tua velocità di corsa. Bene, ho scoperto il Fartlek e l'ho scoperto anche con queste indicazioni che ho condiviso con te, quindi raccontandoti un minimo di storia. Questa storia me l'ha raccontata Rankyper. La prima volta che ho affrontato un allenamento Fartlek, la vocina mi ha raccontato la storia del Fartlek, mi ha spiegato che cos'è. Quando ho fatto le ripetizioni da 400 metri, la vocina della trainer virtuale mi ha suggerito a che cosa stare attento, in che modo non infortunarmi o in che modo trarre il massimo dal mio allenamento. E quindi quello che stai facendo in realtà non è il semplice utilizzo di un servizio, ma è un contenuto. Stai imparando, stai apprendendo, stai crescendo sia nelle prestazioni fisiche, di volta in volta, di settimana in settimana, sia nella consapevolezza. E questo secondo me è un primo elemento fondamentale. Il secondo elemento è il fatto che è l'esperienza premium dell'applicazione. Cioè ASICS, finanziando, sponsorizzando, investendo il budget in questa iniziativa, ti ha regalato e ti regala l'utilizzo di Rankyper Premium sostanzialmente o di una delle feature di Rankyper Premium. Perché Rankyper Premium ti permette di accedere agli allenamenti personalizzati. Puoi sceglierti degli allenatori specifici o puoi trovarti un allenamento a seconda del tuo obiettivo, per esempio perdere peso o correre in una maratona. Ti selezioni un obiettivo e Rankyper ti suggerisce degli allenamenti reali creati da trainer reali per raggiungere il tuo obiettivo. In questo modo ASICS, senza farti pagare l'abbonamento a Rankyper Pro, ti dà la possibilità di vivere però un'esperienza Pro, un'esperienza Premium dell'applicazione, di vivere la stessa esperienza dell'applicazione che avresti se pagassi l'abbonamento a Rankyper. E questo secondo me è una cosa win-win, cioè porta acqua al mulino di ASICS perché gli permette di regalarti qualcosa, porta acqua al mulino di Rankyper perché dopo che hai fatto l'allenamento di ASICS ti viene voglia di iscriverti a Rankyper per scoprire altri allenamenti e porta acqua al mulino tuo perché puoi utilizzare questa applicazione totalmente gratuitamente senza pagare un euro e avere delle funzionalità Premium che ti permettono di progredire. Il terzo motivo per cui secondo me vale la pena di imbarcarsi in questa sfida, accettare la sfida della ASICS Peace Academy è l'obiettivo, la motivazione. C'è una grossa differenza tra il praticare attività fisica così come ti viene e il farlo con degli obiettivi precisi. Anzi, ti dirò di più, questo allenamento è un po' una metafora degli obiettivi nel business. Sono allenamenti di vario tipo, quindi come se fossero attività di vario tipo, per esempio il marketing, il product design, la business intelligence, attività di vario tipo che puoi ripetere quando vuoi. Quindi io in teoria potrei, e così faccio, molto spesso faccio l'allenamento fartlek breve anche se è il secondo allenamento. Ho fatto anche gli altri allenamenti ma ritorno sul fartlek breve, mi si stanno dando la lingua perché è molto comodo come tempi, mi si incastra bene nella mia giornata. E allora ti fa vedere come il raggiungimento di un obiettivo finale è l'inanellamento di altri obiettivi più piccoli, intermedi, in relazione tra loro, anche in una relazione a volte propedeutica, l'uno è propedeutico all'altro, in anellamento di vari obiettivi che una volta conseguiti ti portano uno dopo l'altro all'obiettivo più generale. Quindi credo che sia una piccola metafora, un piccolo allenamento con il corpo che ti porta a livello strategico a focalizzarti su quello che potrebbe essere un allenamento business. Addirittura sarebbe carino immaginare un'applicazione che ti dà la stessa struttura, lo stesso tipo di allenamento con anche il trainer virtuale che ti corregge la velocità. Cioè se tu corri troppo lui ti dice guarda che stai andando troppo veloce. È la stessa cosa che faccio io a volte con alcune persone che seguo nel coaching digitale gli dico guarda stai mettendo troppa energia su questa cosa, stai investendo troppo, ok ci siamo posti questo obiettivo, la strada per arrivarci è questa, ma attenzione perché se vai a questa velocità tra due giorni sei spompato, riduci la velocità all'inizio, frena il tuo entusiasmo e cerca di riversare questo entusiasmo nel proseguire l'attività in maniera costante. Molto meglio farlo in maniera costante piuttosto che pompare tutto all'inizio e poi lasciarlo andare. Ma ci sono anche delle cose da dire sull'iniziativa in sé nel senso che questa iniziativa promozionale di ESX è di fatto un'iniziativa inbound, è un'iniziativa di content marketing. Sì, è vero, magari potresti dire ma dove sta il contenuto? Non vedo il video, non vedo il blog, non vedo il podcast, ma guarda che è contenuto anche quello che ti dice la voce, è contenuto anche perché il funzionamento dell'allenamento, cioè il fatto di vedere un allenamento che è fatto da ripetizioni, sei ripetizioni da 400 metri è di per sé un contenuto. Non c'è bisogno di vedere il blog post, non c'è bisogno di vedere il podcast o il video. Questo è un contenuto. Allora ci può far aprire la mente su come, se ci stiamo arrovellando su come fare iniziative di content marketing per promuovere la nostra attività, su come in maniera creativa possono essere utilizzati degli strumenti, possono essere offerti degli strumenti che permettono ai nostri potenziali clienti di raggiungere degli obiettivi o di semplificarsi la vita. Uno di questi strumenti per esempio è quello di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, abbiamo parlato di uno strumento di analisi dello stato di salute di un sito web analizzando vari parametri, benissimo, questo strumento di analisi è di fatto un'iniziativa di content marketing, ti dà dei contenuti, ti dà un punteggio per vari aspetti del tuo sito web ma ti motiva anche, ti fa capire come mai avere il title, description corrette e pensate, studiate, personalizzate pagina per pagina è meglio che averle tutte uguali site wide, tutte uguali spalmate su tutto il sito. Nello spiegarti perché ti è attribuito quel punteggio ti spiega anche qual è la best practice, qual è la linea guida da seguire per avere dei risultati migliori e quindi ci sono tantissime diverse possibilità per ottenere il meglio e far ottenere il meglio il tuo potenziale cliente dimmi tu se dopo aver ottenuto il meglio attraverso l'esperienza che tu hai offerto lo strumento che hai messo loro a disposizione andranno da qualcun altro a chiedere i prodotti e i servizi no, si fideranno di te perché lo scopo di ogni iniziativa di content marketing è aumentare l'autorevolezza la reputazione del brand e quale modo migliore che amuntare la reputazione del brand che farti ottenere tramite il brand tramite le sue iniziative dei risultati concreti e poi ha un'altra caratteristica questa iniziativa che a me piace particolarmente quando un cliente una persona alla quale do dei consigli alla quale faccio una consulenza per affrontare una campagna di advertising quando mi dice voglio fare una campagna su facebook voglio fare una campagna pubblicitaria la mia priorità non è solo fare in modo che la pubblicità sia vista o cliccata da più persone possibili fare in modo che ci siano le conversioni non è solo questo ogni pubblicità ogni promozione è anche uno strumento di business intelligence che cosa voglio dire che ESX ora dipende dagli accordi che ha fatto con Rank Keeper ma sarà sicuramente in grado di raccogliere dati sulla frequenza degli allenamenti su quali sono gli allenamenti preferiti cioè vedrà che tantissime persone hanno fatto l'allenamento Fartlek breve e poche persone hanno fatto le ripetizioni da 400 metri e quindi avrà dei dati su successive sponsorizzazioni da fare su altri contenuti da pubblicare per esempio creare un videocorso tutto basato sul Fartlek o un contenuto che racconta la storia del Fartlek come puoi sapere che questo è un tema interessante se non attraverso la raccolta di big data di una quantità di dati enormi attraverso il numero di persone che ha fatto questo allenamento pensate addirittura mi da in questo momento Rank Keeper 313.798 persone hanno accettato questa sfida quindi diciamo un bel numero di persone saranno in grado di produrre dati sulla frequenza sul numero di allenamenti che fanno durante la settimana su quanto tempo ci mettono a completare la sfida sul completamento stesso della sfida hanno fatto tutti gli allenamenti o solo alcuni a che allenamento si sono fermati quanto tempo è passato tra quando hanno aperto la comunicazione relativa a questa sfida e hanno accettato la sfida e fatto il primo allenamento a quale velocità corrono qual è il loro ritmo oppure addirittura anche informazioni personali perché una sfida potrebbe chiederti all'inizio quanti anni hai e quanto pesi cosa che fa normalmente Rank Keeper e quindi questi dati possono essere condivisi con chi in questo caso ASICS fa la promozione allora il consiglio in questo caso è facciamo come ASICS utilizziamo le nostre iniziative i nostri budget promozionali non solo per poter spiattellare la nostra pubblicità per raggiungere più persone possibili per dare la massima visibilità ai nostri messaggi promozionali ma anche per radunare informazioni importanti sensibili strategiche per pianificare future attività come posso fare questo con una semplice campagna banner è molto semplice invece di andare dal blog di Pinco Pallino e dirgli puoi mostrare questo banner sulla colonna destra un milione di volte vai da Pinco Pallino e gli dici senti metti questo tag pubblicitario di Google Double Click for Publisher dentro allo spazio pubblicitario e lo mostri un milione di volte perché io nel frattempo dentro Double Click for Publisher detto tra di noi uno strumento per la gestione pubblicitaria è un ad server completamente gratuito di proprietà di Google con grandissime potenzialità dentro Double Click for Publisher vado a creare cinque banner diversi o almeno due banner diversi in modo che su un milione di visualizzazioni complessive il 50% vedrà il banner 1 e il 50% il banner 2 oppure addirittura cinque banner diversi avrò la possibilità di far girare i banner in rotazione ottimizzata così la chiama Double Click for Publisher che cosa vuol dire rotazione ottimizzata vuol dire che lui all'inizio per un certo numero di visualizzazioni fa ruotare in maniera diciamo omogenea tutti i banner diversi e poi comincia a far ruotare di più con maggior frequenza quelli che hanno un CTR maggiore in questo modo che cosa saprò saprò quale dei miei banner performa meglio e quindi al termine della campagna pubblicitaria potrò utilizzare quel banner per farlo per fare altre campagne su altri siti quindi oltre al numero di click al numero di visualizzazioni al numero di conversione ottenuto tramite quel banner mi sono portato a casa un dato utile per lo sviluppo del mio business chiediti sempre quando fai un'attività di comunicazione qual è il mio goal primario cioè il mio obiettivo primario ma anche quali sono i goal secondari quali sono i vantaggi secondari che mi posso portare a casa perché anche su questo tema magari tra due siti che ugualmente ti permettono di fare campagne pubblicitare da un milione di impression l'uno per l'altro ce n'è uno che accetta e ti aiuta a implementare una rotazione ottimizzata dai più banner e uno che invece dice no senti dammi un banner e basta quindi può essere addirittura un elemento discriminante un elemento di scelta e vorrei concludere con una cosa rispetto all'engagement oggi si parla sempre di engagement ti è mai capitato di incontrare per strada dopo mesi o anni una persona con la quale hai vissuto un'esperienza di crescita una come dire una life changing experience un qualcosa non lo so una coppia che hai incontrato nel viaggio di nozze un una persona con la quale hai fatto il master in giornalismo ecco quando l'hai incontrata hai sentito una sensazione strana di familiarità come la sensazione che tu e lei avete qualcosa in comune anche se oggi non avete più niente in comune quell'esperienza che avete vissuto insieme vi ha unito bene questo è il vero engagement e questo è quello che ottiene ASICS attraverso un'iniziativa del genere siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi allora ragazzi provate la sfida di ASICS la ASICS Peace Academy e fatemi sapere che cosa ne pensate fatemi sapere a quale allenamento siete arrivati come procede la vostra corsa se avete effettivamente aumentato la vostra pubblicità la vostra velocità non la vostra pubblicità quella ne vogliamo sempre di meno e vogliamo invece sempre di più gestire la nostra vita accanto al lavoro in maniera sana salutare se vogliamo addirittura connettiamoci sul Rank Keeper io corro sapete che Rank Keeper è anche un aspetto di social networking quindi potete ricercarmi Giulio Gaudiano sul Rank Keeper ci possiamo connettere e correre virtualmente insieme così come corriamo insieme con tutti i produttori di strategia digitale coloro che tra voi ascoltatori hanno scelto di finanziare il progetto e di entrare a pieno titolo nel team di chi crea di chi rende possibile la vita del nostro podcast un grazie di cuore a tutti i produttori a tutti i finanziatori li ringrazio uno a uno ma non mi stancherò mai di puntata in puntata di ringraziarli perché sono veramente la squadra che permette che rende possibile tutto il nostro podcast e tutto il valore che vi è in esso e se vuoi diventare anche tu produttore beh è semplicissimo umediaweb.com slash finanzia un grazie di cuore anche a Sara Veltri coautrice dello show al nostro fonico Costanza Mineo e a Radiospeaker.it curatore del nostro sound design ragazzi buona corsa grazie mille e alla prossima strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano grazie mille